Buongiorno di nuovo e benvenuti al secondo talk della mattina della nostra Summer School. Vi ricordo che il tema dei talk di oggi è dedicato al presente e al futuro della ricerca. Ora parleremo degli acceleratori del futuro in un seminario a cura di Massimo Ferrario, vi presento quindi il relatore. Massimo Ferrario lavora ai laboratori nazionali di Frascati, dove si occupa della fisica dei fasci di elettroni ad alta brillanza, acceleratori a plasma e nuovi sorgenti di radiazione. Collabora con i maggiori centri di ricerca internazionale, tra cui CERN, DAISY e SRAC. È responsabile per i laboratori nazionali di Frascati del progetto SPARCLAB ed Eupraxia ed insegna fisica degli acceleratori per il ciclo di dottorato dell'Università di Roma La Sapienza. Vi ricordo che potete scrivere le vostre domande nella chat e al termine Massimo Ferrario risponderà alle vostre domande. Massimo, a te la parola. Ah, perfetto. Grazie mille Susanna per questa introduzione. Io oggi, adesso riporterò tutti un po' con i piedi più sulla Terra, dopo questa bellissima presentazione sulle onde gravitazionali. Però in un certo senso anche noi siamo proiettati verso il futuro e verso lo spazio e adesso cercherò di farvi vedere di cosa ci stiamo occupando. E mi piace iniziare con questa fotografia che io trovo molto carina, ma che rappresenta soprattutto una transizione importantissima per quello che riguarda la fisica degli acceleratori. Cioè, quello che voi potete vedere è un dispositivo la cui lunghezza non supera i 10 centimetri. E all'interno di questo dispositivo, che è di plastica, che viene fatto con una stampante 3D, viene alloggiato un tubicino in zaffiro perforato, del diametro di meno di un millimetro. E all'interno di questo tubicino viene immesso un gas attraverso questi tubicini, tipicamente idrogeno. Questo gas viene poi ionizzato, vengono separati gli ioni dagli elettroni orbitali e si forma quello che si chiama un plasma, cioè una miscela di cariche positive e negative. Di per sé, fino a qui non abbiamo fatto grandi progressi, perché questo non è nient'altro che quello che avviene nelle normali lampade che avete anche in casa vostra o che trovate in molti uffici, le lampade al neon ad esempio. E infatti quella che vedete, questa luce rosina intorno, è la luce emessa dalla ionizzazione del gas, che viene fatto attraverso una scarica elettrica. Questa scarica viene prodotta da due elettrodi posti agli estremi che fanno una bella scarica, si illumina e si forma il plasma. Bene, se all'interno di questo tubicino viene iniettato un laser di alta potenza, oppure un altro fascio di particelle. All'interno di questo plasma si generano delle onde, di cui fra poco vi farò vedere la forma e la nascita, e con queste onde è possibile accelerare in pochissimo spazio, abbiamo detto 10 centimetri, particelle fino a energie estremamente elevate. Ad esempio, con questo dispositivo sono state accelerate particelle, elettroni, da zero energia fino a 10 jeff, in 10 centimetri. Pensate che per raggiungere attualmente una simile energia serve un acceleratore lungo 3 chilometri. Quindi potete immaginare la differenza che potrebbe aprirsi se potessimo utilizzare degli acceleratori di particelle con queste dimensioni. Tra l'altro ne ho uno qua in mano, questo è uno dei dispositivi, un capillare a scarica che utilizziamo qui a Frascati, questo è lungo 3 centimetri, quello che vedete sono 10, però insomma sono elementi che hanno un costo bassissimo e potrebbero avere delle prestazioni estremamente forti. Quindi l'argomento della lezione di cui vorrei parlarvi ora è proprio il futuro degli acceleratori, cosa possiamo pensare di fare nella prossima generazione di acceleratori e soprattutto focalizzare anche un po' l'attenzione sul progetto Upraxia che è appena stato approvato e che verrà realizzato a Frascati, che è uno degli progetti del futuro in questo settore. So che avete già seguito una bellissima lezione di Davide Alesini, quindi gran parte delle nozioni elementari sugli acceleratori le avete già, quindi io mi focalizzerò soprattutto sugli aspetti che riguardano le applicazioni future e l'accelerazione a plasma. Tra l'altro anche l'accelerazione a plasma, per ricommettermi un attimo con la lezione precedente, non è un'invezione terrestre completamente. Anche nel cosmo ci sono acceleratori di particelle, i raggi cosmici che riceviamo regolarmente sulla Terra sono prodotti da vari fenomeni, esplosioni di stelle, varie emissioni di radiazione, ma anche attraverso l'ionizzazione di gas interstellari che a loro volta producono campi acceleranti e accelerano le particelle che poi casualmente si dirigono anche verso la Terra. Quindi quello che stiamo cercando di fare in laboratorio è riprodurre delle condizioni che nel cosmo esistono già da millenni, in modo però controllato, nel senso che noi vogliamo accelerare uno specifico fascio di particelle, raggiungere un'energia a noi utile e con certe caratteristiche e non semplicemente un flusso di particelle accelerate come avviene nel cosmo. Perché è importante che si arrivi a questo punto? Se guardate questo grafico rappresenta l'evoluzione degli acceleratori di particelle negli anni, dall'inizio della loro scoperta, applicazione intorno agli anni 30 fino ad oggi e al prossimo futuro. Se guardate questa linea blu vedete che c'è stato un notevole progresso sull'energia raggiunta dagli acceleratori nella scala verticale. Poi però a un certo punto, negli anni recenti, questi balzi di energia cominciano a ridurre la loro pendenza fino a raggiungere una saturazione. Cioè negli ultimi anni non si sono fatti progressi enormi nella costruzione di acceleratori di particelle ad alta energia. E questo anche per un motivo molto semplice, che oltre a una certa dimensione i costi e la gestione di queste macchine diventano improponibili. È difficile sostenere acceleratori enormi in un laboratorio di ricerca. Ciononostante il futuro della fisica delle particelle e non solo, anche delle applicazioni di vario tipo, medico, industriale eccetera, richiede acceleratori in grado di essere più compatti, più piccoli, meno costosi, più facili da gestire e i balzi che sono previsti nel prossimo futuro per entrare in regioni di energia interessanti alla scoperta di nuovi fenomeni sono molto, come dire, challenging. Bisogna stare molto attenti perché si rischia di costruire delle macchine enormi e poi magari non raggiungere i risultati che uno si aspetta. E come sapete attualmente l'acceleratore al mondo più grande in funzione è l'HC a Ginevra, che è una circonferenza di 27 km e tutta una serie di strumentazioni, magneti, cavità acceleranti, rivelatori. Un sistema estremamente complesso che però ha raggiunto dei risultati notevoli. Qui come sapete è stato scoperto il bosone di X, ma non solo. Ogni grande impresa come questa, o come anche il viaggio sulla Luna, comporta al di là dell'ideale dell'obiettivo finale, tutto uno sviluppo tecnologico, scientifico, di supporto alla realizzazione di queste grandi opere scientifiche, che hanno comunque delle ricadute che spesso valgono la spesa anche se poi non si raggiunge l'obiettivo finale. Come sapete al CERN è nata la gestione della rete, del web, sono nati lo sviluppo di cavi superconduttori, sono nate tante cose che di per sé hanno un'importanza e che forse non sarebbero mai state sviluppate se non motivate da sfide di questo tipo. Ciò non toglie che a un certo punto queste sfide diventano anche un po' troppo impegnative, perché ad esempio il futuro acceleratore previsto sempre al CERN avrà una circonferenza di 100 km per poter raggiungere le energie di 100 TeV nel centro di massa come richiesto per gli esperimenti. 100 km di acceleratore circolare non sono proprio banali, non solo la costruzione di questo tunnel sotterraneo che passa sotto il lago di Ginevra, ma anche la gestione della macchina in sé. Pensate solo, per un problema di manutenzione in questa zona c'è un problema, bisogna correre lì, con una squadra di tecnici, poi devono ritornare alla loro sede, poi magari uno ha dimenticato lì un cacciavite, cosa fa? Deve rifarsi altri 100 km per andarselo a riprendere. Insomma, è una gestione non banale, oltre al costo che naturalmente rischia di eccedere non solo le capacità di una singola nazione, cosa che già succede, l'HC è stato costruito da una collaborazione internazionale, ma anche da grandi collaborazioni rischiano di non avere i finanziamenti necessari. E questo è il motivo per cui la gente si sta preoccupando. Qual è il limite al momento? Il momento è che le strutture acceleranti, di cui credo Alesini vi abbia parlato diffusamente, quella più utilizzata in molti acceleratori è quella che vedete qui, è una struttura sviluppata a slack. Sono delle cavità metalliche all'interno delle quali viene eccitato un'onda elettromagnetica. Quest'onda ha una componente del campo elettrico nella direzione in cui si vuole accelerare le particelle e quindi quando le particelle vengono iniettate in questa specie di tubo, vedono un campo che le accelera e da una cella all'altra continuano a guadagnare energia. Bellissimo, ha funzionato bene per molti anni. Il problema è che se uno volesse rendere gli acceleratori più corti, dovrebbe poter avere dei campi acceleranti all'interno di queste strutture molto elevate. C'è un problema intanto di sorgenti, di potenza che deve essere immessa nelle cavità, ma oltretutto, arrivati a un certo punto, quello che succede è che se il campo che ospita la cavità risonante, cioè la struttura metallica, supera un certo limite, diventa così forte che comincia a estrarre elettroni addirittura dalla parete di rame della struttura. E questi elettroni vanno a sbattere dall'altra parte della cavità e comincia un processo a valanga che alla fine genera una scarica, proprio come quella che prendete quando, non so, toccate un oggetto e prendete la scossa. Solo che a quel punto sono tensioni molto più alte, scariche molto più intense, che alla fine producono anche dei buchi. Quindi c'è un limite proprio intrinseco in queste strutture, per cui aumentando sempre di più il campo accelerante che contengono, a un certo punto si danneggiano. Si danneggiano perché quello che succede è che vengono estratti degli elettroni dalla superficie, comunque non è mai una superficie perfettamente liscia, come vedete in questa immagine al microscopio elettrolico. C'è tutta una serie di corrugazioni dalle quali si ha l'effetto punta e da lì vengono emessi elettroni e sulla superficie si forma una situazione simile a quella che vi ho descritto prima, un plasma, perché vengono ionizzate gli atomi della superficie e questo plasma poi accelera ma in modo incontrollato e scarica e rovina la struttura. Quindi questo è il motivo per cui c'è un limite tecnologico, uno non può superare certi campi acceleranti e quindi è costretto a mettere tante di queste strutture in fila, una dietro l'altra, per poter raggiungere l'energia finale. Vi ho detto che per raggiungere i 10-15 GEV di cui vi ho parlato una struttura come questa richiede 3 km di estensione. Fortunatamente qualche cosa sta succedendo nel mondo, se guardate questa linea rossa, questa linea rossa del grafico precedente in realtà dimostra i risultati ottenuti con queste nuove tecniche di accelerazione a plasma e sono iniziati i risultati intorno al 1980, quando è stata proposta la prima idea, e poco dopo è stato sviluppato anche il laser adatto per questo tipo di applicazioni. Deve essere un laser a sua volta di grande potenza con impulsi molto corti e questa invenzione ha tra l'altro portato al premio Nobel nel 2018 Gerard Moreau e Donna Strickland proprio perché hanno sviluppato questa tecnica non per accelerare le particelle ma per produrre laser di alta potenza, che poi hanno anche tante altre applicazioni oltre quelle dell'accelerazione. Vedete che da questo anno in poi i risultati sperimentali che sono rappresentati da questa curva rossa hanno continuato a portare energie molto più alte di quelle iniziali e con una crescita ancora molto sostenuta, mentre gli acceleratori convenzionali sono arrivati a una certa soglia e poi li sono rimasti, questi acceleratori a plasma continuano a produrre risultati e ci si aspetta al momento non vediamo dei limiti intrinseci, per cui uno si aspetta che andando avanti nel tempo e perfezionando le tecniche di realizzazione si riesca a superare queste barriere di interesse applicativo e scientifico riducendo contemporaneamente costi e dimensioni dei progetti. Tutto ciò comincia, come vi ho detto, intorno agli 80, questi sono i primi due articoli, se avete voglia di leggerli, ma che hanno segnato la svolta nel campo delle accelerazioni di particelle, prima che venisse sviluppato il laser opportuno. Ma cosa succede all'interno di questo dispositivo? Abbiamo, spero, capito come viene formato il plasma, il plasma viene formato attraverso un gas ionizzato da una scarica elettrica, ripeto ancora, all'interno di un dispositivo come questo, di cui vedete qui agli estremi gli elettrodi, qua viene applicata la tensione e all'interno parte la scarica. Ma una volta che abbiamo ottenuto questa miscela di gas ionizzato, che cosa possiamo farne? Beh, allora la cosa che possiamo fare è iniettare da uno dei due fori, posti ad esempio qui all'estrema sinistra, un fascio che chiamiamo drive pulse. Questo fascio appunto generalmente è un fascio laser, ma può anche essere un fascio di particelle, e questo fascio drive entra all'interno di questo gas ionizzato, dove coesistono cariche positive e negative, ma separate, non più unite come in un atomo di idrogeno, e mentre passa all'interno di questo gas spinge gli elettroni e soprattutto gli elettroni, perché sono molto più leggeri degli ioni e quindi rispondono più velocemente alla perturbazione prodotta dall'impulso drive, e questi elettroni cominciano a allontanarsi dalla regione in cui sta passando l'impulso laser di guida. Vengono allontanati, ma fino a un certo punto, dopo un po', vengono richiamati indietro da che cosa? Dalla forza prodotta da questa bolla arancione, dove sono rimaste soltanto cariche positive, un'alta densità di cariche positive, che produce dei campi elettrostatici estremamente forti, che come primo effetto hanno quello di richiamare indietro gli elettroni che sono stati scalciati via dall'impulso drive. Quindi questi elettroni del plasma non fanno altro che fare un'oscillazione, vanno in alto, intanto l'impulso drive si è spostato in avanti e poi tornano indietro perché richiamati dalla loro posizione originaria, dalla bolla che si è formata positiva. Però già questo è un risultato importante, perché quello che succede è che per almeno una frazione di tempo utile, sulla scia dell'impulso drive si apre questa finestra di opportunità, si forma una bolla di alta densità di carica positiva, che contiene dei campi acceleranti estremamente forti e se uno inietta un secondo fascio sulla coda di questa bolla, questo fascio può essere accelerato a sua volta dalla presenza di questi campi all'interno di questa regione. Quindi questo è essenzialmente il meccanismo di accelerazione attraverso il plasma. Ci vuole un plasma che diventa la nostra struttura accelerante, ci vuole un impulso drive, laser tipicamente, che produce la separazione delle cariche e quindi scopre questa regione di densità costante e contemporaneamente mentre fa questo mestiere, cioè di separare le cariche, perde energia, perché ovviamente tutto ciò non avviene gratis. Il fascio laser entra e perde un po' della sua energia elettromagnetica per spingere via gli elettroni dalla loro posizione stazionaria. Questa energia viene però praticamente immagazzinata nella bolla elettrostatica che si forma e viene guadagnata dal fascio che può essere iniettato sulla coda di questo sistema. Quindi alla fine l'energia si conserva, tanta ne perde l'impulso laser, tanta ne guadagna il fascio che può essere accelerato. Però lo si può fare in modo controllato, in modo tale da avere dei gradienti acceleranti che sono stati misurati fino a 100 gigavolt per metro rispetto ai convenzionali 100 megavolt per metro nelle strutture a radiofrequenza. Quindi mille volte di più la compattezza si misura in questo. Più è alto il campo accelerante, più è corto a parità di energia finale il sistema e quindi c'è un fattore di guadagno estremamente forte. Ovviamente detto così sembrerebbe tutto semplice, purtroppo ci sono dei limiti anche in questa situazione. Intanto se calcolate la dimensione di questa bolla che dipende dalla densità di cariche accumulata nel plasma, vedete che la dimensione è dell'ordine di 300 micron, quindi è molto piccola. In 300 micron bisogna essere in grado di iniettare un fascio di particelle, che quindi deve essere molto più corto della dimensione della bolla e deve essere iniettato nella posizione giusta, al tempo giusto, in una dimensione estremamente ridotta. Quindi anche la preparazione di questo fascio da iniettare nella struttura accelerante è molto complicata e spesso richiede un pre-acceleratore convenzionale che si sa manipolare bene per poter introdurre questo fascio da accelerare. E poi ci sono anche dei limiti in questo tipo di schema. In realtà, se ci pensate bene, un plasma non è soggetto a scariche come le cavità in rame. Abbiamo detto che le cavità in rame, se ospitano dei campi troppo forti, cominciano a emettere elettroni dalle pareti e si forma un plasma sulla superficie delle pareti. Qui siamo già in presenza di un plasma, qui abbiamo già distrutto in parte la materia che viene investita dai campi elettromagnetici. Quindi peggio di un plasma nulla può succedere. In realtà succede un fenomeno che è simile a quello delle scariche nelle cavità in rame, che viene chiamato breakdown, che però può avere anche dei risvolti interessanti. Che cosa succede? Che se la densità di carica è veramente molto alta e i campi che si formano qui sono intensi, appunto abbiamo detto fino a 100 giga volt a metro, gli elettroni del plasma, dopo essere stati allontanati e tornati indietro nella loro posizione originale, rischiano di essere catturati dal campo elettrico, soprattutto dalla componente longitudinale del campo elettrico e accelerati loro stessi. Quindi il fascio di elettroni viene prima buttato fuori, poi torna indietro e se cade nella zona in cui il campo è accelerante, se supera una certa soglia, che viene chiamata breakdown limit, viene risucchiato dalla bolla stessa. Questo se ci pensate è l'equivalente della scarica incontrollata nelle strutture a radiofrequenza, però in questo caso può essere utilizzato, perché allora uno può anche dire, un momento, io mando solo l'impulso laser dentro il mio plasma, genero questa separazione e poi se ho ottimizzato bene tutti i parametri, quando l'elettrone torna indietro viene catturato e viene accelerato. In effetti questo è quello che succede. Vi faccio vedere prima una breve rappresentazione, diciamo un cartone animato per rispiegare, per chiarire bene quello che sta succedendo. Questo è il nostro gas ionizzato, quindi qui abbiamo una miscela di cariche positive e negative che convivono in una situazione quasi di equilibrio. Entra l'impulso laser nel capillare, quello che fa separa le cariche, quindi gli elettroni scappano via perché sono più leggeri, restano gli ioni e intanto però l'impulso laser propaga, va in avanti. Quindi mentre questi ioni positivi restano inchiodati sostanzialmente nella posizione in cui sono, il laser avanza e trascina, diciamo, crea continuamente queste bolle man mano che propaga. All'interno di questa bolla abbiamo detto uno può o depositare un fascio di elettroni oppure catturare gli elettroni del plasma stesso e accelerarli sulla scia dell'impulso driver. E questa simulazione mostra esattamente quello che sta succedendo. Se voi guardate il primo riquadro in alto a sinistra, questo che vedete è l'impulso laser che sta viaggiando all'interno del plasma e questa zona più scura è quella che è stata svuotata dall'impulso laser di elettroni, quindi rimane solo la carica positiva e quando ripartirà questo filmato, in realtà lo posso far ripartire io stesso, vedrete meglio quello che sta succedendo perché entra l'impulso laser, si formano i campi, i campi sono talmente elevati che gli elettroni della parete diciamo vengono catturati quando ritornano sull'asse e seguono sulla scia il campo laser che ha generato questa configurazione. Però come vedete anche da questa simulazione dopo un po' succede qualcosa che non ci piace, la bolla si deforma, il fascio di elettroni che era stato catturato sparisce, il fascio laser non si vede più, questo è in effetti spiegabile con alcuni effetti che avvengono all'interno di questa struttura, all'interno del plasma. Il primo effetto importante è dovuto alla diffrazione del laser, nel senso che l'impulso laser entra ben focalizzato all'interno del capillare, ma poi per sua natura tende ad allargarsi non è che rimane sempre con una sezione piccolissima, se viene focalizzato in un punto, dopo quel punto tipicamente si espande e espandendosi diminuisce la densità di energia nell'impulso laser e quindi diminuisce anche la sua forza di espulsione, di creazione della bolla. Quindi c'è una lunghezza limite oltre la quale la diffrazione del laser impedisce una completa accelerazione su distanze più lunghe. Poi c'è l'altro problema del defasing, cosa vuol dire il defasing? Che c'è una distanza ottimale tra gli elettroni accelerati e quella del laser, purtroppo però la velocità della luce in un plasma non è c, è ridotta. Quando la luce propaga in un mezzo non viaggia alla velocità della luce nel vuoto, viaggia alla velocità della luce nel mezzo che è ridotta, che dipende anche dalla densità del plasma. Gli elettroni invece che vengono accelerati non subiscono questo effetto e quando vengono accelerati a velocità prossime a quelle della luce in realtà possono addirittura superare la velocità dell'impulso driver. Infatti se notate questo fascio a poco a poco raggiunge il centro della bolla e poi viaggia verso il laser stesso e lì viene interrotto il processo di accelerazione. Poi naturalmente nel processo di eccitazione dell'onda il laser perde parte della sua energia oltre alla diffrazione e quindi insomma ci sono dei limiti che rendono questa situazione favorevole limitata nel tempo. C'è una lunghezza tipica oltre la quale non si può accelerare, a meno che non si prenda un altro modulo simile, subito dopo si estrae il fascio di elettroni dal primo modulo, si butta via il fascio laser, lo si sostituisce con uno nuovo e via così in sequenza si può andare a energia maggiore. C'è però un altro problema importante in questa configurazione che viene chiamata di self injection, di autoiniezione. Il fascio di elettroni viene catturato dalle pareti però viene catturato durante tutta la fase di accelerazione, non solo all'inizio. Durante il processo di propagazione vari elettroni si accumulano, quindi alcuni elettroni vengono catturati subito appena il laser entra nel plasma, altri quando magari sta per finire il capillare, stanno quasi per uscire e questo è un effetto importante perché vuole dire che elettroni catturati a tempi diversi guadagnano più o meno energia, cioè alla fine quello che è stato catturato subito si guadagna tutta l'energia perché viaggia insieme al laser per 10 centimetri diciamo. Quello che viene catturato nell'ultimo centimetro viene accelerato meno, il che produce alla fine dei fasci che non hanno tutti la stessa, le particelle del fascio non hanno tutti la stessa energia, hanno una distribuzione di energia che per molti esperimenti non va bene, quello che si chiama un energy spread dell'ordine del 100% che non li rende facilmente utilizzabili. Quindi ci vogliono nuovi schemi per superare questo punto di stallo, siamo in grado di dare tanta energia agli elettroni ma non ancora in un modo controllato come piacerebbe a noi per sfruttare un fascio di qualità dove almeno la distribuzione di energia non cambia più dell'un per mille, mentre in questi esperimenti cambia anche del 10% che è tanto. Tra l'altro quello che vedete in questa slide è la fotografia del primo laser che è stato utilizzato per fare questo tipo di esperimenti a Berkeley e qui sorge subito un dubbio. Voi mi state vendendo un acceleratore compatto come questo lungo 10 cm e poi però per eccitare l'onda qua dentro ho bisogno di un laser le cui dimensioni sono come vedete belle grosse e questo porterebbe un po' una contraddizione perché anche questi sono dispositivi costosi. fortunatamente rispetto a questo laser che è stato sviluppato oltre 15 anni fa, l'industria dei laser di potenza sta facendo enormi progressi. Oggi un laser con le caratteristiche di questo tipo di produrre cioè un petawatt di energia per impulso occupa un fattore 10, è ridotto di una scala di un fattore 10, cioè magari solo due di questi scatoloni sono sufficienti per raggiungere la stessa energia finale, potenza finale. Comunque con lo stesso laser si possono alimentare più di uno di questi moduli acceleranti. Quindi la riduzione dei costi e delle dimensioni anche dei sistemi laser sta andando nella direzione giusta per rendere questa tecnologia diciamo di interesse. E questo è il tipico esperimento che viene fatto con questi fasci laser. Il fascio laser viene innanzitutto generato dal sistema laser e poi deve essere trasportato per essere iniettato dentro il capillare, questo dispositivo di cui abbiamo già parlato. Il problema è che questo laser, essendo di alta potenza, nel suo cammino, dato che ha bisogno di specchi per essere trasportato nel luogo dove deve essere utilizzato, rischia di rovinare tutto. Perché se venite investiti da un laser, da un petawatt di potenza, può fare dei danni, può perforare delle strutture metalliche. Quindi figuriamoci con degli specchi che cosa può succedere. Quindi la prima cosa da fare è trasportare il laser con una dimensione trasversa molto grande, dell'ordine dei centimetri, in modo da diluire la potenza, l'energia contenuta nell'impulso e così non superare la soglia di danneggiamento degli specchi. Quindi viene trasportato un fascio grosso, di qualche centimetro di raggio, viene riflesso fino alla zona di interesse e poi solo nell'ultima parte viene riflesso da uno specchio concavo che fa sì che i vari raggi del laser convergano verso un punto, si focalizzino esattamente all'ingresso della nostra struttura per raggiungere diametri dell'ordine delle decine di micron e qui facciano il loro mestiere di accelerazione delle particelle. Poi il fascio laser e le particelle accelerate vengono estratte, vengono separati, perché a un certo punto il laser va buttato via, quindi viene lasciato prima di tutto espandere, perché altrimenti non sarebbe possibile rifletterlo, quando raggiunge una certa dimensione viene deflesso in una zona separata dall'acceleratore vero e proprio. Il fascio di elettroni invece continua il suo cammino rettilineo e poi viene tipicamente analizzato dagli spettrometri o vari sistemi di diagnostica. Con questo dispositivo sono stati ottenuti i risultati che vi ho annunciato. Questo è il primo risultato significativo, che avrò raggiunto circa 4 GeV in 9 cm di plasma. Gli ultimi risultati hanno dimostrato che si può raggiungere 10 GeV nello stesso capillare, aumentando la potenza del laser. E però, come vedete, l'energy spread, cioè la variazione di energia lungo il bunch, rimane consistente. Nell'ordine del 5%, vuol dire che il 5% di energia viene distribuito sulle particelle e non è un fascio, come dire, monocromatico, con tutte le particelle alla stessa identica energia. Quindi anche qui bisogna fare un passo avanti, almeno di un ordine di grandezza, e raggiungere l'1 per 1000 di energy spread per poterne fare applicazioni interessanti. Su questo tema, dopo aver dimostrato la possibilità di accelerare particelle, anche se in modo ancora poco di alta qualità, si è scatenata una ricerca in tutto il mondo. Varie università, laboratori in America, Asia ed Europa hanno cominciato a cercare di migliorare le prestazioni in termini non solo di gradienti acceleranti, ma anche proprio di qualità dei fasci, raggiungendo vari risultati, a volte un po' in modo scorrelato. Recentemente però è partito un progetto che si chiama Eupraxia, una collaborazione europea che è partita nel 2015, con uno scopo ben preciso. A un certo punto la comunità scientifica degli acceleratori di particelle a plasma ha detto, va bene, ci sono delle grandi promesse, grandi aspettative in questo tipo di acceleratori. Però se continuiamo ognuno a fare esperimenti per i fatti suoi senza coordinarci, rischiamo di perdere tempo e di non raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. E quindi si è formata questa collaborazione internazionale che ha come scopo quello di partire dalla consapevolezza che questo sistema di accelerazione funziona e dalla necessità di dimostrare, distribuendoci il lavoro in modo opportuno, la possibilità di generare dei fasci veramente utilizzabili per esperimenti o per sorgenti di radiazione. Insieme è stato preparato un documento, un conceptual design report che ha proprio lo scopo di dimostrare, mettendo tutti i contributi insieme, come potrebbe essere il futuro acceleratore di particelle. Questa è una collaborazione internazionale e uno dei primi punti che è stato discusso è stato anche dove lo faremo poi questo acceleratore, perché comunque richiede non solo la collaborazione internazionale, ma anche la sede opportuna degli investimenti opportuni e tra i vari candidati, laboratori candidati a ospitare questo nuovo progetto, c'era anche Frascati, alla quale poi alla fine del processo di preparazione del documento è stato assegnato proprio uno dei due siti pilota che viene chiamato Eupraxia Aspar Club e di cui vedete qui una proiezione futura dell'edificio che dovrà ospitare questo laboratorio dove vengono sviluppate queste nuove tecniche di accelerazione, forse riconoscerete l'area che appunto sono i laboratori di Frascati e all'interno di questo edificio abbiamo proposto di costruire una macchina sperimentale pilota in grado di provare varie tecniche come verranno proposte poi dalla collaborazione internazionale che ruota tutto intorno a questo modulo di acceleratore a plasma che deve dimostrare la possibilità di non solo accelerare bene ma anche di produrre fasci di alta qualità e questo modulo a plasma che vedete qui, questo affare che pulsa, può essere alimentato sia da un sistema laser di alta potenza che verrà alloggiato in questa regione sia da un fascio di elettroni che può essere generato da un linac convenzionale per poter generare appunto il drive pass di elettroni. Ma non solo, se uno vuole dimostrare che un acceleratore è utile deve anche associare qualche applicazione e l'applicazione che si è deciso di provare con questo sistema di accelerazione è quello di generare un impulso di radiazione FEL un laser a elettroni liberi di cui tra poco vi farò vedere alcune cose interessanti e poi a valle di questo laser in grado di produrre radiazione a lunghezza d'onda molto corta abbiamo previsto una regione dove verranno fatti dei veri e propri esperimenti utilizzando la radiazione prodotta da questo sistema. Tanto se siete interessati potete scaricare a questo link il nostro progetto locale che spiega anche alcune cose più in dettaglio. Questa è la collaborazione, ci sono vari istituti nazionali e internazionali al momento interessati. Va bene, quindi proviamo a vedere più passo passo di cosa è composto questo nuovo esperimento che faremo fra scatti nei prossimi anni. C'è una regione iniziale dove vengono accelerati gli elettroni in modo convenzionale, poi vengono iniettati nel plasma circa in questa regione, il fascio accelerato dal plasma viene iniettato nel laser a elettroni liberi che fra poco vi spiegherò e questa è la zona in cui verrà utilizzato. Vediamo intanto una visione di insieme, questo è il progetto che sta andando avanti, qui si vede chiaramente come è fatto il LINAC di iniezione, qui in questa fessura verrà installato il plasma che moltiplicherà l'energia dei fasci a energie molto più alte e questa è poi la catena di ondulatori che serve per il laser elettroni liberi. E procedendo passo passo, il primo elemento, scusate mi è sfuggita la mano, adesso torniamo un attimo indietro, qua, ecco, il primo elemento da considerare è la sorgente di elettroni, quindi da qualche parte bisogna partire per generare i fasci di elettroni e la sorgente di elettroni è stata scelta come un fotoiniettore dove, come vedete in questa animazione, il fascio di elettroni viene generato da un impulso laser che scende da questo canale, viene riflesso su uno specchio, adesso torniamo indietro qui, e va a impattare su un fotocatodo, sostanzialmente una placca di rame che quando viene illuminata da radiazione laser ultravioletta emette per effetto fotoelettrico degli elettroni. e la cosa è estremamente utile perché la forma e la lunghezza e le dimensioni del fascio di elettroni può essere predeterminata dalla forma e dalle dimensioni dell'impulso laser, quindi se io mando un impulso laser molto corto e molto intenso posso estrarre per effetto fotoelettrico un fascio di elettroni che praticamente è una copia del fascio di laser che lo ha generato. Il problema è che da quando il fascio laser si trasforma in un fascio di elettroni, quello che entra in gioco sono le forze colombiane, abbiamo a che fare con un fascio di particelle cariche e le cariche elettriche, come sapete, non amano stare tutte insieme se sono dello stesso segno, tendono a respingersi, quindi se il fascio fosse generato così semplicemente per effetto fotoelettrico, subito dopo lo perderemmo perché tende ad espandersi. Fortunatamente questo effetto si può ridurre molto se il fascio viene subito accelerato all'interno di una struttura accelerante vecchio tipo, diciamo, a radiofrequenza, e confinato da dei campi magnetici in modo tale che man mano che il fascio viene accelerato le forze di repulsione diminuiscono, questo è un bel effetto relativistico di cui forse l'avrete sentito già parlare, e poi si può iniettare questo fascio all'interno della parte diciamo convenzionale di pre-accelerazione per essere poi mandato nel plasma. Quindi le strutture a valle dell'iniettore, abbiamo scelto, sono di questo tipo, sono strutture a radiofrequenza, molto simili a quelle di cui vi ha parlato Davide Alesini, e alla fine della fase di accelerazione, quando il fascio ha raggiunto una certa energia, viene utilizzato il fascio di elettroni stesso per eccitare l'onda di plasma. E subito dopo viene mandato un altro fascio che assorbe parte dell'energia che viene depositata dal fascio driver all'interno del plasma. Quindi la configurazione che noi spariamo nel plasma è fatta così, un driver è un witness, il driver perde energia e attraverso il plasma la passa al witness. Il vantaggio è che qui si ha un effetto fionda, perché tutta l'energia contenuta nel driver viene trasferita all'altro fascio che viene moltiplicato almeno di un fattore 2 rispetto all'energia iniziale e quindi all'uscita dopo il plasma quello che succede è che il driver ha perso energia, ma il witness ne ha guadagnata molta di più. Se entrano, dato che vengono generati dallo stesso acceleratore, se entrano con la stessa energia, alla fine questo avrà guadagnato almeno il doppio dell'energia iniziale. Però in certe configurazioni si può guadagnare addirittura 3-4 volte di più, bilanciando la carica opportunamente nei due fasci. L'animazione che vedete qui sostanzialmente rappresenta quello che succede all'interno del nostro capillare. Questo è il fascio di elettroni pilota e questo è il fascio witness che viene accelerato a valle. Dopodiché arriviamo a questa regione, il fascio driver viene buttato via, il fascio witness viene iniettato all'interno di questi dispositivi che non sono altro che una sequenza di calamite, di poli magnetici a orientazione alternata e all'interno di questa struttura magnetica i fasci di elettroni cominciano a compiere delle orbite sinusoidali, ossillano all'interno di questa, durante il percorso all'interno di questi magneti e durante l'oscillazione emettono radiazione e questo è il principio base del laser elettroni liberi che era raffigurato in questa animazione. Il fascio di elettroni entra in questa sequenza di dipoli magnetici alternati, quindi viene deflesso un po' a sinistra, un po' a destra, semistra destra e compiendo questa orbita sinusoidale emette radiazione, ma la cosa bella di questo sistema è che la radiazione emessa durante questo cammino a poco a poco si accumula, forse si vede meglio in questa animazione. Il fascio di elettroni che entra inizialmente nell'ondulatore, all'inizio tutti gli elettroni emettono radiazione, ognuno per i fatti suoi, sono questi puntini bianchi che vedete illuminati all'interno del fascio, ma dopo un po' la radiazione che stanno emettendo forza tutti gli altri a emettere sulla stessa lunghezza d'onda, è un fenomeno di risonanza che viene spontaneamente all'interno di questa struttura e si formano queste strutture all'interno del fascio di elettroni che amplificano la radiazione totale e soprattutto la emettono a una lunghezza d'onda ben precisa. Lo spettro emesso da questi dispositivi, dai laser e elettroni liberi, è molto simile a quello di un vero laser, cioè monocromatico. Se voi volete della radiazione rossa o verde, non volete che ci siano dentro anche tante componenti di altri colori, volete solo quello. Il vantaggio di questo sistema laser è che con i laser atomici, tipicamente quelli che si usano anche come laser pointer, se volete cambiare colore dovete cambiare dispositivo, perché ogni elemento attivo all'interno del laser emette su una specifica lunghezza d'onda. Nel laser e elettroni liberi invece la lunghezza della radiazione emessa, la lunghezza d'onda, dipende da dei parametri che sostanzialmente contengono anche l'energia delle particelle. Questo gamma quadro è la lunghezza, scusate, è l'energia delle particelle. Quindi se io cambio, aumento, diminuisco l'energia delle particelle iniettate in questo dispositivo, cambio anche la lunghezza d'onda della radiazione emessa. Quindi con un unico dispositivo posso cambiare lo spettro dal rosso al blu all'ultravioletto, ma andare anche oltre. Mi posso permettere addirittura di fare dei laser a raggi X che non esistono, non è possibile fare con i sistemi convenzionali. E questo è quello che è stato fatto negli anni recenti, sono stati prodotti dei laser a raggi X che hanno permesso delle scoperte molto interessanti di cui tra poco vi farò vedere. Comunque, all'uscita dell'ondulatore ovviamente quello che si ottiene è la sovrapposizione del nostro fascio di elettroni e di quello di luce che ha generato. Quindi la prima cosa che uno deve fare per utilizzare questa radiazione è separare due fasci e per questo è abbastanza semplice, perché con un campo magnetico si può deflettere il fascio di elettroni e buttarlo sotto terra, mentre il fascio di luce non viene assolutamente deflesso dal campo magnetico e quindi procede dritto verso la zona dove può essere utilizzato. E uno degli esperimenti più interessanti, e vi descriverò tra poco, può essere effettuato in quest'area dove il fascio di luce dopo essere stato analizzato opportunamente caratterizzato dalla diagnostica necessaria, viene focalizzato nella zona sperimentale. E nella zona sperimentale si possono fare esperimenti di questo tipo. Quello che viene qui rappresentato è il tentativo di ricostruire la struttura di una proteina singola, al suo stato libero, al suo stato naturale, attraverso una serie di immagini ottenute per diffrazione, equivalente diciamo a delle radiografie delle proteine fatte utilizzando il fascio laser a raggi X. Ma la cosa interessante è che se volete studiare una singola proteina, quello che dovete fare è innanzitutto fare in modo che la proteina interagisca con la radiazione laser. Vediamo qua se si vede. Vedete, la proteina viene fatta scivolare, viene iniettata dentro il sistema dove viene fatta attraversare dall'impulso laser e poi l'impulso laser forma queste figure di diffrazione su uno schermo dalle quali è possibile estrarre informazioni sulla struttura tridimensionale delle proteine. Ma la cosa interessante avviene qui, se voi guardate, per poter avere delle immagini ad alta risoluzione è necessario usare fasci di luce di raggi X molto intensi. Questi fasci di luce molto intensi come primo effetto hanno quello di distruggere la molecola a cui vanno incontro e quindi il problema è che se io distruggo il mio campione, quello che ottengo poi sullo schermo non è certo un'immagine della mia proteina come era in origine, è qualche cosa di molto più confuso. Il vantaggio del laser a elettroni liberi, oltre a quello di produrre radiazione alle lunghezze d'onda variabili che ci interessano, è quello di produrre impulsi di luce estremamente corti. E perché questo diventa fondamentale nell'interazione con le proteine? Perché, forse si vede meglio qua, durante l'interazione col fascio laser la proteina viene distrutta, ma se il tempo di propagazione del laser attraverso la proteina è più corto del tempo che la proteina ha bisogno per esplodere, per distruggersi, allora la figura di diffrazione che io tengo a valle sullo schermo è ancora un'immagine della mia proteina nel suo stato naturale. Quindi se io ho degli impulsi laser estremamente corti, nell'ora di 50-30 secondi, il fascio laser passa velocemente attraverso la proteina e fa la sua immagine. La proteina ha subito questo scossone ma non ha ancora distrutto i suoi legami che richiedono più tempo e solo dopo la proteina esplode. Quindi avendo a che fare con impulsi a raggi X ultra corti è possibile fotografare lo stato della proteina con un singolo colpo prima che questa venga distrutta. E oltretutto poter andare a lunghezze d'onda molto corte permette di analizzare anche strutture sempre più piccole. Sicuramente la regione di interesse biologico intorno alle decine di nanometri è estremamente importante per valutare questi fenomeni, queste proprietà delle proteine, ma potendo scendere anche sotto la risoluzione potrebbe permettere di analizzare molecole anche più piccole delle proteine fino ad arrivare anche all'interazione con gli atomi stessi. E diciamo l'obiettivo che noi ci siamo posti nel progetto Eupraxia è quello di produrre radiazione intorno ai tre nanometri. Perché abbiamo scelto proprio questa lunghezza d'onda? Perché questa lunghezza d'onda ha il vantaggio di non essere assorbita dall'acqua, oltre ad essere molto corta. Quindi se può passare attraverso l'acqua è anche utilizzabile per analizzare sostanze biologiche, come ad esempio i virus, nel loro stato naturale, immersi nella loro struttura tipica, appunto in una cultura o anche nei tessuti di interesse. E qui potete vedere la differenza tra un'immagine di un virus effettuata con una lunghezza d'onda che sta all'interno di questa finestra dell'acqua che va dai 2 ai 4 nanometri, dove questa radiazione penetra senza essere assorbita, rispetto a delle immagini simili fatte a lunghezza d'onda o più basse o più alte dei 3 nanometri. Quindi vedete che l'opacità dell'immagine è notevole, mentre questa è molto più nitida. E' inutile dire che uno strumento di questo genere nella battaglia attuale contro i virus potrebbe essere estremamente importante. Il virus con cui stiamo combattendo ha delle dimensioni che sono dell'ordine di 120 nanometri, quindi molto più piccolo, ma molto più grande della lunghezza d'onda che a noi interessa e quindi possiamo avere tutta la risoluzione necessaria per poterlo fotografare, ma anche la possibilità di andare a analizzare queste maledette spike che sarebbero quelle proteine che vengono utilizzate dal virus per agganciarsi alla cellula, come in questa fotografia, al microscopio elettronico e inattare dentro il DNA che poi produce tutti quei danni. Quindi chiaramente questo è uno strumento fondamentale per questo tipo di studi e in effetti c'è un movimento internazionale per utilizzare questo tipo di sorgenti di radiazione per individuare proprio il bel regalo che ci hanno fatto questi probabilmente pipistrelli con il virus del Covid. Ma quello che vedete qua è proprio una delle prime immagini effettuate attraverso la luce di radiazione tipo fel, effettuate proprio in questi giorni di emergenza per cercare di capire la struttura di questa proteina che viene chiamata protease, che è proprio quella che il virus utilizza per iniettare il DNA nelle cellule. E questa è la prima immagine, a me personalmente dice poco perché non sono un biologo, ma che permette di ricostruire le funzioni specifiche di questa proteina e naturalmente quando si capisce come funziona l'attaccante uno può inventarsi anche la difesa più opportuna per superare questo flagello. Oltretutto si possono fare anche vere e proprie immagini 3D delle cellule mettendo in evidenza alcune proteine delle cellule stesse, quelle a cui i virus possono attaccarsi o possono produrre infezioni. Quindi è sostanzialmente uno strumento di cui potete immaginare poterne avere a disposizione di compatti poco costosi generati appunto da acceleratori a plasma che possono essere installati non solo nei grandi laboratori di ricerca tipo il CERN o anche Frascati, ma all'interno degli ospedali, dell'università per la ricerca. Chiaramente questo sviluppo di accelerazioni di acceleratore compatto è molto promettente, oltre che essere utile alla società. A Frascati tra l'altro abbiamo anche una test facility che si chiama Spark Lab, già in funzione, questo è uno schema che sostanzialmente in scala molto più piccola riporta la complessità di tutto il progetto Upraxia, acceleratore convenzionale, plasma, ondulatori per il FELL. Questa è una fotografia, forse l'avete visitato, non credo, ma in futuro magari lo verrete a visitare. Ed è su questo esperimento che stiamo cercando di sviluppare le competenze per poi costruire Upraxia. Questa è la regione in cui facciamo gli esperimenti col plasma, questo è il dispositivo, lo vedete qua in funzione, sono impulsi a 10 Hz di plasma, e questo come abbiamo già discusso è lo schema che abbiamo deciso di utilizzare, cioè l'iniezione del fascio driver di elettroni che accelera il witness, quindi noi non facciamo uso di laser in questa configurazione, anche se ne abbiamo uno a disposizione. E vediamo se diciamo la conclusione, questa è proprio la fotografia del nostro capillare, ripeto, è proprio questo qua che ho in mano, installato nella linea di accelerazione, con la luce emessa dalla scarica nel plasma, e questi sono i primi risultati che abbiamo ottenuto proprio prima della chiusura per il lockdown e che speriamo ci permettano di proseguire adesso, che la situazione sta migliorando e raggiungere gli obiettivi sperati. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione e se avete domande, forse questo è il momento giusto. Sì Massimo, sono arrivate alcune domande, se puoi un attimo inserire la presentazione, credo all'inizio, perché questa domanda è arrivata all'inizio, ti chiedono se il secondo fascio è di elettroni. Sì, quindi immagino che sia questa. Esatto. Sì. Ti chiedono se il secondo fascio è di elettroni. Sì, in questa configurazione utilizziamo un primo fascio di elettroni e un secondo fascio di elettroni pure lui. Ok, poi ti chiedono se la bolla è in sé e in movimento. Allora, la bolla, di fatto no. Vediamo, perché quello che è in movimento è il laser o il fascio di elettroni che la genera. Oh no, scusate, devo mettermi in proiezione se no non si vede. Quindi il fascio laser entra nella plasma e separa gli elettroni dagli ioni. Però gli ioni, queste particelle più scritte qua restano lì. Quello che passa è l'impulso laser. Poi dopo la bolla si richiude. Dove c'era prima, dopo scompare. Però il laser continua a viaggiare, quindi apre queste finestre durante la sua propagazione. Però essendoci un fascio di elettroni che viene iniettato qui sulla sua coda e che viaggia insieme, di fatto vede sempre lo stesso campo accelerante, perché viaggia insieme al driver e quindi vede sempre una regione di cariche positive che l'accelera. Quindi l'accelerazione è continua durante tutto il processo. Come del resto si vede da questa animazione. quindi questa è un'animazione. A questo punto noi ci mettiamo solidali con l'impulso laser. Ma le bolle restano ferme dove erano state generate, solo che si richiudono dopo un po' e il fascio di elettroni segue il suo driver. Quindi viene sempre accelerato. Allora riguardo questa slide, se non erro, questa slide è quella prima della slide di Bella, giusto? Questa sì. Allora aspetta che allargo un po' qua. Grazie perché mi sa che su questa slide qui ti chiedono che cos'è il grafico in basso a destra. Su questa? Esatto. Allora il grafico in basso a destra, grazie per la domanda perché è importante, è proprio quello che rappresenta la distribuzione di energia all'interno del fascio. Quindi vedete qua sono le varie energie che possono assumere le particelle durante l'accelerazione fino alla fine ed è proprio qua che si capisce come lo spread di energia sia molto ampio. Perché quello che uno si aspetterebbe alla fine di questo processo di accelerazione è che tutte le particelle fossero concentrate diciamo qui intorno ai 100 MeV con una riga possibilmente stretta. Invece purtroppo quello che si vede da questo grafico che rappresenta l'energia, la distribuzione di energia lungo il fascio di elettroni durante il viaggio nel plasma dimostra che ci sono particelle che hanno alta energia, particelle che ne hanno meno, più bassa, si forma effettivamente una regione qui intorno agli 80 MeV di particelle a energia sostenuta, però come vedete l'ampiezza di questa curva è larga per cui lo spread, la distribuzione di energia dentro il fascio è inapplicabile, soprattutto per dispositivi tipo laser e elettroni liberi dove si richiede uno spread che è quasi una riga, non una curva così a campana come si vede. Quindi questo era uno dei problemi da superare e che si sta superando, però diciamo che purtroppo limita l'impiego di questa autoiniezione che avrebbe delle comodità enormi perché con l'autoiniezione basta sparare un laser nel plasma e lui risucchia gli elettroni dal plasma. Purtroppo questo sistema non funziona per produrre fasci di elettroni di alta qualità e per questo che si rende necessario, come facciamo noi, iniettare due fasci, uno già piccolino in modo che non accumuli uno spread di energia elevato e l'altro che ceda l'energia al fascio che lo segue. Grazie Massimo, poi ci chiedono perché c'è bisogno di avere il plasma lungo tutto il percorso? Perché il campo elettrostatico che accelera gli elettroni è prodotto dal plasma. Una volta che il plasma non c'è più, il fascio driver se ne va per gli affari suoi e quello accelerato non sente l'effetto di quello driver. Cioè il plasma è il mediatore, è quello che assorbe l'energia dal driver e la rende disponibile per il witness, quindi per quello da accelerare. Senza plasma questa comunicazione si interrompe e quindi non c'è possibilità di accelerazione. Ti riporto quest'altra domanda. Gli elettroni accelerati sono in grado di superare il laser oppure si arrestano appena prima di superarlo? Beh, in realtà potrebbero anche essere in grado di superare il laser, dato che la velocità di gruppo, di propagazione dell'onda nel plasma è inferiore alla velocità della luce, a un certo punto questi elettroni raggiungono il laser e lo distanziano. Ovviamente a quel punto gli elettroni stessi non guadagnano più energia perché si trovano in una regione in cui non c'è nessun campo accelerante e a loro volta cominciano a rallentare, quindi tornano indietro e vengono risuperati dal laser. Però sicuramente non è una condizione utile per un'accelerazione con applicazioni interessanti. Può essere studiato come fenomeno di interazione in queste condizioni che magari simulano condizioni che si verificano nel cosmo, perché nel cosmo ci sono fasci di alta intensità di radiazione, di particelle, particelle di cariche diverse. La fisica del plasma nel cosmo è estremamente interessante e in parte può essere riprodotta in questi laboratori terrestri. Poi ti chiedono come si curva il fascio laser verso il fotocatodo? Con uno specchio. È una bella domanda perché è uno dei problemi più complicati, però vedete qua c'è uno specchiettino in cui il fascio laser viene deflesso verso lo specchio, verso il fotocatodo, ma naturalmente questo specchio non può essere messo sulla linea dove poi passeranno gli elettroni, altrimenti lo distruggerebbe. Qui in questa immagine non è ben fatta. Quello che succede è che lo specchio è posizionato un pochino fuori asse, per cui il fascio laser quando viene deflesso raggiunge il fotocatodo con un angolo molto piccolo, ma sufficiente a estrarre il fascio di elettroni e farlo passare sotto lo specchio senza danneggiarlo, altrimenti si dovrebbe cambiare uno specchio alla settimana perché viene danneggiato molto facilmente. Grazie perché così hai risposto anche alla seconda domanda collegata, infatti ci chiedevano se ci fosse uno specchio e poi non sarebbe d'intralcio al fascio di elettroni, quindi hai risposto in maniera continua. Ci sono varie soluzioni, alcuni utilizzano addirittura degli specchi bucati, messi in asse, per cui il fascio laser viene riflesso dalla corona che sta intorno, focalizzato sul catodo e poi il fascio di elettroni passa in mezzo. Questo viene utilizzato anche negli acceleratori a plasma per separare il fascio laser dal fascio di elettroni? Questa è un'ottima domanda perché può spiegare meglio quello che succede qua. Qui c'è un problema analogo perché dopo che il fascio laser è passato attraverso il plasma deve essere fatto espandere e poi a questo punto deve essere deflesso da uno specchio. Questo specchio è effettivamente bucato, nel senso che come si vede un pochino anche in questa immagine, parte del fascio laser passa attraverso quel buchino, ma soprattutto ci passa al fascio di elettroni e tutto il resto viene deflesso e smorzato qua. Quindi sono problemi simili anche se su esperimenti completamente diversi. Poi ci chiedono, la proteina viene posta in posizione già da prima o viene fatta scendere come nel video? Allora, nel video viene effettivamente resa la cosa semplice perché magari fosse così controllabile la situazione, quindi una proteina sgocciolata volta per volta senza pensare poi ai problemi di sincronizzazione perché deve proprio arrivare nel punto giusto. No, in realtà quello che succede è sfrutta degli effetti statistici che vedete qua. Questo è il sistema che utilizziamo noi, questa è un'animazione in realtà, però non si vede molto perché questo è un jet, quindi qui c'è una specie di provetta che contiene una soluzione con le proteine di interesse che viene spruzzata nella direzione dove passa il fascio laser e a questo punto la probabilità che un fascio laser incroci una proteina è più elevata, non c'è bisogno di sincronizzare la singola proteina e ne mandiamo talmente tante che almeno una si spera interagirà col fascio laser e potrà produrre poi le immagini di interesse ricostruendole. Quindi questo è quello che vi ho fatto vedere, è un'animazione suggestiva ma poi nella realtà si sfrutta questo aspetto statistico che rende tutto più semplice per certi aspetti. Ci chiedono se le immagini delle proteine vengono spedite a laboratori di biologia o ci sono biologi che lavorano allo stesso esperimento insieme ai fisici? Tutta questa, vediamo, tutta la regione che abbiamo chiamato dedicata agli user, ovviamente in questa regione viene gestita dagli esperti del settore, se uno vuole fare un esperimento di struttura della materia, di elettroni, di strumentazione, di semiconduttori particolarmente utili alla struttura elettronica, vengono gli esperti di struttura della materia. Se vogliono fare un esperimento di biologia vengono i biologi che con l'ausilio ovviamente dei fisici, degli acceleratori che devono provvedere a fornire il fascio come richiesto per quell'esperimento, ma poi tutta l'interpretazione scientifica ovviamente è lasciata agli esperti del settore. In questo senso è una macchina interdisciplinare perché è aperta a un pubblico compreso quello industriale che può appunto avere necessità di sviluppare nuovi materiali per particolari applicazioni, ma naturalmente l'interpretazione oltre a essere pubblica, quindi nessun segreto, viene lasciata in mano agli esperti. La cosa interessante è questo fervore di attività che è nato proprio in questo periodo intorno alla necessità di scoprire qualcosa il più in fretta possibile sulle strutture del virus e ci sono consorsi di esperimenti dedicati a questo tipo di indagine che stanno già dando dei risultati importanti. Ti riporto quest'altra domanda, si potrebbero eliminare gli elettroni meno energetici con appositi magneti? Beh in realtà sì, si può a valle del plasma manipolare il fascio e pulirlo da da tutte le parti poco attraenti. Però ci sono delle difficoltà. La prima cosa è possibile se, ad esempio parlando di energy spread, questo energy spread è correlato. Cosa vuol dire? Che le particelle di più alta energia stanno sulla testa, quelle di bassa energia sulla coda del fascio e allora vi è facile con un magnete e una fenditura, tagliarlo e buttare via la parte che non interessa. Ma se lo spread è scorrelato, nel senso che è distribuito a caso all'interno del fascio, diventa più difficile separare le particelle buone da quelle cattive. Comunque sia poi, per passare da uno spread del 10% a quello dell'1 per 1000, dovrei buttare via talmente tante particelle che alla fine la carica che mi rimane utile è talmente bassa che per molte applicazioni diventa inefficiente. Quindi è molto meglio cercare di produrre fasci di buona qualità nel loro insieme piuttosto che pulirli a valle con metodi complicati, poco compatti e con rischio di perdere gran parte della carica utile. L'ultima domanda, è possibile usare un acceleratore al plasma come fonte di energia? Beh, come fonte di energia di per sé no, però gli acceleratori sono parti di sorgenti di energia, ad esempio per riscaldamento dei plasmi, può essere necessario a volte mandare fasci di alta energia all'interno di un plasma, quelli utilizzati per la fusione nucleare, per riscaldare il plasma e renderlo diciamo a temperature prossime a quelle necessarie alla fusione. Quindi possono avere questo tipo di applicazioni, non necessariamente l'acceleratore in sé può essere utilizzato per produrre energia. Grazie mille Massimo per questo talk molto molto interessante e siamo giunti alla conclusione di questa Summer School edizione online. Vi ricordo che tutti i video sono registrati nella playlist Summer School 2020 su questo canale, quindi potete rivederli. Per tutte le informazioni consultate il sito web dedicato all'evento perché nei prossimi giorni aggiungeremo diversi contenuti tra cui le risposte a tutte le domande che sono arrivate durante le dirette, le slide delle presentazioni e anche alcuni quiz. Ringrazio tutti i miei colleghi che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento online, Deborah Biffaretti, Sara Arnone, Elena Patrignanelli, Elisa Santinelli, Gianni Di Giovanni e Sara Reda. Grazie mille. Buona giornata a tutti e a presto.